Cognito non per i motivi addotti, ma per cercare di scoprire cosa c'è dietro il crash di Savadì. I primi sospettati, Davide Ragh, il primo sospettato che verrà interrogato da Savadì.it Hai visto le iscrizioni che ho fatto prima? Risponda quando io le consento di rispondere. Lei è al corrente di quello che è accaduto al sito Savadì.it? No, non so niente, che è successo. Il crollo forumistico web. Ah, sì, sì, ma non sono io. E lei non ha nulla da dire a sua discolpa? Non sono io. E i nomi, scatti, no, è al plurale. I nomi sono due, marito e moglie. Nickname marito e moglie, dice il signor Davide Ragh. A chi potremmo pensare mai? No, no, io no, io no. In una maniera pressante, il signor Graziano si discolpa e si dissocia. Il signor Davide Ragh dice di sapere qualche cosa. Telefoneremo questa sera al signor Eddie di Savadì.it per aggiornarlo sulle indagini del proconsule coach. Sapeva tutto, sapeva tutto, sapeva tutto, sapeva tutto, sapeva tutto, sapeva tutto, sapeva tutto che può dire che ci sarebbe solo l'attacco. Sì, 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 è veramente intrigante. Sempre il giuda dell'attore Davide Ragh, a questo punto va definito come tale, sostiene, aduce tesi probatorie nei confronti di una persona dello staff. Comunicheremo sempre a signore di Savadì.it, webmaster, questa sera l'accademia.